Un doppio studio di fattibilità per le opere di manutenzione straordinaria degli argini lungo la sponda sinistra del fiume Toce è stato approvato dalla giunta di Masera. Si tratta di un intervento diviso in due tranche che l'amministrazione spera che possa essere finanziato, come previsto dalla vigente normativa, da fondi regionali. In totale si tratta di oltre 3 milioni e mezzo. Lo studio è stato affidato dalla giunta alla studio Injoart SRL. Scarica gratuitamente l'app News24 e leggi gratis i nostri giornali e se vuoi vedere tutto il video abbonati alla nuova televisione online e live 24 ore su 24.